Che cos'è la tiroide IPSA? Benvenuti, sono il dottor Claudio Tomella, medico, specialista in nutrizione e medicina anti-aging e oggi rispondo a questa domanda. Che cos'è quindi questa tiroide IPSA? I più curiosi di voi l'avranno trovata sul web, qualcuno di voi l'avrà utilizzata come terapia e nel 2018, quando è uscita dal commercio, e per qualcuno è stata un piccolo lutto fondamentalmente. Ma che cos'è questa tiroide IPSA? Ecco, è una formulazione di ormoni sintetici T3 e T4, quindi l'evotiroxina e l'eutironina, prodotta per molti anni dall'azienda IPSA. Ha due, diciamo, dosaggi noti e ben collaudati, di 33 o 125 come veniva definito. È un approccio sicuramente quello con la tiroide IPSA che ha cambiato la vita di molte persone ed era un tipo di terapia che anch'io ho utilizzato nei miei pazienti. Quindi voi sapete che io utilizzo la terapia della tiroide a 360 gradi, quindi non solo l'evotiroxina, non solo tiroide secca, non solo tiroide IPSA, non solo integrazioni, non solo nutrizione. La terapia deve essere personalizzata sulla persona, sulla base della clinica, di come sta, della sua storia, della sua storia come persona e della sua storia come esami e, fra virgolette, malattia e poi da come sono andati, da come vanno gli esami, da come sono andati in passato e da come è stato con i diversi tipi di terapie. Quindi è una situazione molto articolata, non è una questione di essere a favore o contro di alcun tipo di terapia. Bisogna usare la terapia migliore per quella persona lì, in quel momento lì. Fra le tante terapie ho utilizzato naturalmente la tiroide IPSA che sicuramente era, diciamo, comunque facile da trovare, in qualche modo economica e ha prodotto risultati interessanti e la uso ancora. Nel 2018 l'azienda IPSA ha deciso per motivi, diciamo, ignoti o che comunque non sono stati resi pubblici di toglierla dal commercio. Sapete come questa è una multinazionale che comunque produce molti farmaci e integratori per la tiroide. Non ci è dato sapere la motivazione precisa. Ad ogni modo, calma, i pazienti ormai sono passati anni, hanno trovato in qualche modo un sostituto. Questo sostituto può essere o una formulazione galenica che contiene la stessa formulazione in microgrammi dei due ormoni sintetici. Attenzione su questo. Sapete che le formulazioni galeniche vengono, diciamo così, allestite nelle diverse farmacie, l'esperienza sul campo mi dimostra che comunque l'esito delle formulazioni prodotte in farmacie diverse sulla clinica sia un po' diverso. Quindi occorre sapere dove viene allestita la preparazione e se va bene replicarla nella stessa farmacia. Poi di recente sono usciti anche altre aziende che fondamentalmente hanno riprodotto la stessa formulazione, come gli otiral per esempio. Quindi questa è una sicuramente una possibilità terapeutica da non lasciarsi scappare, anche se vi ricordo che il concetto principale della tiroide ipsa è che è una formulazione di ormoni tiroidei sintetici, quindi sia t3 che t4, una formulazione, un rapporto standard, si potrebbe andare ancora oltre utilizzando i rapporti anche individualizzati sulla persona. Quindi nel caso della ipsa 125 non è che l'unica possibilità sia 74 microgrammi versus 21,4 microgrammi di t4 e di t3, ma ci può essere un'ulteriore personalizzazione utile per bilanciare gli ormoni. Se volete sapere come e se funziona la vostra tiroide, quali sono gli esami utili per studiarla veramente in modo completo, tutte ma veramente tutte le terapie disponibili per curarla a 360 gradi, potete contattare la mia segreteria per un appuntamento ai numeri in sovraimpressione. Al prossimo video! Ciao! Ciao!